L'innesto di Vailo Ciocev infoltisce un reparto, quello di centrocampo, ricco di alternative. Lì in mezzo sono in tanti, almeno ad oggi. Gaston Brugman e Frank Canute sono stati al centro di voci in uscita, ma al momento non si è concretizzato alcunché. E poi Luca Crecco, Lejan Memushai, Alessandro Bruno, Filippo Melegoni, Willy Brassiano-Tabì, Massimiliano Busellato e appunto i Vailo Ciocev. Va detto però che proprio il centrocampista bulgaro, in uscita dal Palermo e Melegoni, non saranno subito a disposizione perché alle prese con importanti infortuni. Ciocev a marzo, nel corso della gara tra Bulgaria e Montenegro, ha riportato una frattura scomposta della rotola destra e tornerà a disposizione in autunno. Stesso discorso per il centrocampista di proprietà dell'Atalanta che, sempre a marzo con la Under-20, ha subito la rottura del crociato ad un ginocchio. Ecco perché, nonostante tutti questi nomi, Luca Palmiero non esce dai radar del Pescara. Eventuali cessioni sono sempre dietro l'angolo, mentre Ciocev è un innesto che sarà utile per la seconda parte della prossima stagione e magari per le successive. Resta poi attualissimo il discorso centramanti. Si attende la ratifica dell'accordo con Marco Tuminello, il centramanti cresciuto nelle giovanili della Roma ma ora di proprietà dell'Atalanta. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati rumors intorno ad altri giovani di prospettiva, voci più o meno confermate dalla società. Piacciano il 2000 serbo della Fiorentina Dusan Vlaovic, Matteo Bruno Risandi di proprietà del Parma, portato in ritiro dal tecnico dei Ducali d'Aversa, e il gioiellino del Toro Vincenzo Millico. Valutazioni però andranno fatte. L'innesto di uno di loro andrà ad unirsi a Tuminello e Bunino, un eventuale centramanti di nome. L'occasione da cogliere sul finire del calciomercato non avrebbe spazio a meno di una cessione dello stesso Bunino e sempre ragionandole in ottica di un 4-3, motivo per il quale il Delfino ha acquisito Galano e Cisco, spera di poter riavere Sottil e sogna di arrivare a Gennaro Tutilo, sul quale c'è una forte concorrenza. Intanto, come anticipato ieri, stanno arrivando all'aspicciolato i giocatori del Pescara, vecchi e nuovi. In questi giorni effettueranno le visite mediche e da domani svolgeranno i primi test al poggio degli olivi. La comitiva biancazzura partirà domenica mattina, alla volta di Palena, dove svolgerà la prima parte della preparazione, allenandosi al campo Gli Angeli di Palena e alloggiando all'hotel Terrazza d'Abruzzo.